Ne scampò solo un figlio. Abiatar è un nome che in ebraico significa il padre, Dio, dà ricchezza o abbondanza. Abiatar fu il pronipote del sacerdote Eli, uno dei sacerdoti di Nob. In 1 Samuele 22,19-21 si legge E Saul mise a fil di spada Nob, città sacerdotale, uomini e donne, fanciulli e lattanti, buoi, asini e pecore. Ne scampò solo un figlio di Abilemec, figlio di Abitob, chiamato Abiatar, che fuggì sulle tracce di Davide e gli portò notizia che Saul aveva trucidato i sacerdoti del Signore. Commento L'inevoluzione crea il dolore, il dolore crea la fede, la fede crea il misticismo.